bene ragazzi sono le ore 9-10 sono uscito dalla camera perché Jack ancora dorme io ho fame e scoprono 7 e niente questo è la riduce della serata di ieri sono intoppato in strada e niente quindi non so più cosa aspettarmi da questa vacanza se dopo aver partecipato anche come spettatore tra l'altro spettacolo di Tamariz e tra l'altro mi ha chiamato sul palco anche sua moglie per aver fatto un gioco e non so vediamo cosa ci riserverà il destino per oggi è arrivato lo squamble bro per i ragazzi quanto te la rischi andare su in undicesimo piano anzi te la rischi 11 di andare su a piedi per le scale 11 3 2 1 4 potre essere rischiate ciao bro ti vado al scensore vai vai spingi chiaramente ho a mezz'ora che ti aspetto bene ragazzi sono le ore 12 abbiamo lasciato le valigie qua nel luggage room perché abbiamo il treno appena le due e mezza e vi andrò a fare un giretto e basta bene ragazzi siamo a Fuerte del Sol c'è una boh tipo un vento politico non so per democrazia dignità e basta stiamo andando un altro altro materiale come si chiama bro? di Asse Magia Asse Magia Asse Magia De Kocchia Asse Magia Asse Magia Hola amico Hola Que tal tutto bene? tutto bene una gomma elastica me la inrollo qui in la mano e mi sembra una illusione molto bonita è che sembra che la gomma si va borrando però realmente non sta borrada sino che sempre bene naga dopo aver passato più di un'ora dentro il negozio dove ho speso un sacco di soldi ho comprato le cose fighe e basta adesso mi sa che ci dirigeremo nuovamente verso l'hotel recupero le valigie per poi iniziare andare verso la stazione bene si torna a prendere le valigie in hotel in ligo nella gran via che si chiama ci siamo nevati nella stazione centrale la c'è il bro io mi sono chiuso dentro bene e tra 20 minuti abbiamo il treno per tornare a malaga e dopo 20 minuti di fila per entrare in treno ce l'abbiamo fatta siamo arrivati a malaga malaga a malaga ti ricordi il parcheggio dove cavolo è vabbè comunque niente anche oggi non dormito niente in treno e ho editato il video come sempre mi mandano reclami per le canzoni e basta ma ce la faremo anche oggi eccoci di nuovo nella supercar vediti sicura non so dove devo andare siamo di qua vai siamo qua siamo qua arrivati a Stepona ecco l'estadio di atletismo della papel bene quindi adesso ci dirigiamo anche perché sono le sei e mezza non abbiamo abbranzato abbiamo fatto colazione e andrò a mangiare qualcosina in una playa visto che qua in spagna si c'erano le dieci e undici due minuti dei dati arrivati sulla playa la tortiglia grande grazie mille ci mangia tortiglia e che ricco e mangia orata esatto hola chico come andiamo sono very good stiamo andando da Danielito a far volare il drone il nuovo film che ci sarà prossimamente sul mio canale su tutte le sale prima tv italiana come vedete siamo qua da Dani come andiamo thailandese oggi speriamo bene che preferite l'Ace o l'King l'Ace sei sicuro l'Ace l'Ace sei sicuro l'Ace l'Ace è sicuro l'Ace non è importante dove ma è distante, ok? il quattro king i acessi vanno alla fine ora, ce che ho cercato di fare è mettere ho bisogno di trovare il quattro uno per uno mettere mettere alla fine e l'acessi in 4 punti diversi in the middle, ok? la most quickly bellissimo 3 tadaaa si beautiful ora è 4.03 guarda la macchina grazie è solo per il tuo telefono grazie guarda guarda l'uomo guarda 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 troppo ore 4 e 0 4 4 card 1 3 1 7 1 3 7 1 6 1 8 very good shuffle take any card this one this which card 3 very good tadaaa figo? figissimo sono le ore 4 e 3 quarti ma sta bene sta bene Dani sta bene Dani va bene ragazzi ore 5 è beijo 8 1 2 10 11 12 12 13 23 24 24